Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video! Oggi voglio riprendere la categoria dei video trucchetti utili per la vita, per cose eccetera eccetera perché so che vi piace tantissimo e a me piace tantissimo ricercare quello che a voi potrebbe piacere quindi questa volta mi sono imbattuta in un po' di trucchetti per la precisione 10 che in questo periodo che sa per arrivare, cioè il periodo estivo, vacanze, gita fuori porta potrebbe esservi davvero utilissimo e sono 10 trucchetti per quanto riguarda la valigia perfetta spesso tante compagnie aeree soprattutto perché quello è che ci mette più agitazione perché per quanto riguarda i viaggi in treno, in macchina o anche soltanto i traghetti si possono portare più cose mentre per l'aereo c'è un peso, un tot di centimetri per la valigia da rispettare quindi devi stare un po' più risicata con le cose e invece in questo video voglio farvi vedere come poter risparmiare spazio nella valigia seguendo questi semplicissimi trucchetti quindi iniziamo con il primo il primo trucchetto che da quando l'ho scoperto lo faccio sempre e vi posso assicurare che è una mano santa è il fatto di rollare i vestiti e qui vi metterò dei piccoli video che ho trovato su internet dove potete vedere la dimostrazione in questo modo vi posso garantire al 100% che lo spazio sarà sfruttato del 50% perché rollandoli e non mettendoli distesi come facciamo tutti normalmente si occupa molto molto meno spazio quindi questo segnatevelo perché è ottimo secondo trucchetto per noi ragazze o per le ragazze che ascolto in questo video per quanto riguarda il reggiseno uno dei metodi anche qui per occupare meno spazio è coppare le due coppe scusate il gioco di parole insieme formare la conchietta, la conchiglia e poi metterci all'interno di questo buco che si va a formare chiamiamolo così è un po' difficile da spiegare vederlo è molto più semplice ci andate a mettere i laccetti e tutto quello che rimane fuori così in questo modo sarà tutto più compatto, semplice il terzo trucchetto è quello di mettere un foglio quello che si utilizza per spolverare sui mobili eccetera quindi quelli assorbi polvere, cattura polvere per mantenere la freschezza dei capi quindi magari se viaggiate, viaggiate per più di una settimana o anche solo dovete cambiare hotel, cambiare luogo rifare la valigia e ripartire un'altra volta è super utile perché mantiene i capi freschi e cattura l'odore sporco naturalmente se puzzano in una maniera esorbitante quello non si può fare nulla a meno che lavarli però è un ottimo aiuto mettere questo foglio qui quarto trucchetto che ho fatto quando sono partita a Berlino perché sono stata semplicemente tre giorni quindi mi sono fatta questi tre sacchettini con scritto il giorno sopra e all'interno vi create i vostri outfit quindi ci mettete pantaloni, leggings o tuta, quello che vi pare magliettina, calzino e mutanda e state a cavallo quindi creandovi questi sacchettini se partite per pochi giorni anche qui si andrà a occupare molto meno spazio e soprattutto si guadagnerà in tempistiche perché avete già tutto pronto quinto trucchetto anche qui per salvare spazio perché come vi ho detto è questo principalmente lo scopo è mettere calzini e mutande all'interno delle scarpe tanto il volume delle scarpe è quello che è quindi andateci a mettere calzini e mutande all'interno non si andrà ad occupare di più e altra cosa aggiuntiva sempre nel quinto punto possiamo utilizzare le cuffiette quelle da doccia semplicemente per metterci le scarpe all'interno della valigia sesto punto che è forse uno dei miei preferiti perché riguarda anche un po' il make up cioè prendere i portalenti quelli classici, normalissimi, più basici possibili che costano anche una stupidaggine quindi salvate anche il money in questo caso e potete utilizzarlo per metterci creme, fondotinta o tutti i prodotti liquidi quindi anche shampoo, bagno schiuma, eccetera 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 settimo trucchetto per quanto riguarda evitare fuoriuscite di liquidi e cose varie che mi è successo sarà successo sicuramente anche a qualcuno di voi ed è una delle cose più brutte sia perché devi rilavare tutta l'intera valigia sia perché comunque i capi che ti sei portato sono come dire impossibili da mettere quindi onde evitare tutto ciò un trucchettino semplicissimo che neanche vi costerà più di tanto è prendere un pezzo di pellicola trasparente quella che si usa semplicemente per gli alimenti e metterlo tra il tappo e la chiusura del prodotto quindi svitate il prodotto mettete la pellicola e richiudete il tappo in questo modo evitate ogni fuoriuscita di prodotto ottavo trucchetto anche qui molto economico comprate dei portapillole quelli anche divisi per giorno più divisioni ci sono meglio è perché avete più spazio per poter mettere la bigiotteria quindi anche piccoli anelli piccole cose di bigiotteria orecchini eccetera 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 in questo modo potete dividerli portarveli dietro e non perderli nella valigia chissà quando ritrovarli quindi anche questo ottimo sempre per quanto riguarda l'organizzazione generale nono trucchetto sempre per la bigiotteria o comunque accessori gioielleria visto che sicuramente scommetto a almeno l'80% di voi che state guardando questo video sarà successo almeno una volta nella vostra vita portare collanine collane eccetera e ritrovarle tutte aggrovigliate tra di loro onde evitare questa cosa possiamo utilizzare una cannuccia far passare il filo all'interno una delle estremità della collanina combaciarla con l'altra all'esterno e semplicemente averla così in questo modo anche se mettete più di una collana insieme in una pochette in una scomparto la valigia non si andranno mai 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 a intrecciare decimo e ultimo trucchetto riguarda chi viaggia in compagnia o comunque ho dato spazio anche un po' agli uomini che guarderanno questo video se portate camice cose con colletti abbastanza sagomati ecco onde evitare di anche qui occupare spazio maggiormente potete mettere all'interno del colletto della camicia bloccarci la cintura così state sicuri che sia la camicia non perde la forma e non occupate ulteriore spazio quindi questi erano i 10 trucchetti per una valigia perfetta spero che quest'estate possa esservi utile e di avervi dato una mano in questo senso io vi mando un bacio enorme se il video vi è piaciuto mi raccomando thumbs up così capisco che questa categoria di video vi piace e iscrivetevi se ancora non lo siete e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao